Io sono il dottor Diego Sánchez, vengo dalla Spagna, dalla Università di Granada. Sono un medico clinico generale, clinico di un ospitale, sono formato nel 1988. Credo che sarà un'esperienza nuova, intentare di trasmitire questa forma di fare la medicina basata nell'attenzione primaria e nella comunità non ospitale. Grazie a tutti.